Amici! Dopo challenge, scherzoni, unboxing, AMS, no, SR, ARM, quelli che si sussurra, vorrei lasciare un attimo da parte le frivolezze e... Crypta, non è il momento! Dicevo, vorrei utilizzare questo spazio per un po' di sana divulgazione scientifica. L'internet ha bisogno di cultura! E anche tu, soprattutto tu! Quindi, ora parliamo un po' di campi elettromagnetici. Devi sapere che un campo elettromagnetico è un campo tensionale, costituito dalla combinazione di campo elettrico e magnetico. Scusa, me lo tieni un attimo? Starei facendo! Vabbè, gentilissimo. Dicevo, un campo di questo tipo si propaga nello spazio sotto forma di onde che viaggiano alla... Alba, in dispiace? Veramente! Grazie, grazissime! Scusate, un campo ondulatorio di questo tipo per propagarsi nello spazio non necessita di alcuni... Lo so, abbi pazienza. Però io non capisco perché questa... Ho quasi finito, tranquillo. Il primo a studiare tali fenomeni è stato Max. Anche questo, dai. Il fisico scozzese della prima metà dell'Ottocento. Stai andando benissimo. Ragazzi, questa cosa è assolutamente... Aiuto! E vince lei! Reggi il nano challenge! Infatti mi le scossa! No, ma che schifo! Cliccate qui se volete lasciare un like a questo video boicottato in nome di una stupida challenge. Qui per iscrivervi a questo frivolo canale e qui per il prossimo video. Iscrivetemi se volete altri video di fisica.